È una vita che promuove lo sport, ma l'amatore è la nostra chiave. È la nostra chiave di lettura di vittoria. Abbiamo selezionato, grazie ad amadori, un team di sportivi. Beh, un team molto determinato, con le idee chiare, un team che non rinuncia mai a conciliare il lavoro con il benessere. Gli amatori sono dei veri e propri supereroi. E questi supereroi avranno bisogno ovviamente di un allenatore, di un coach. E chi può essere questo allenatore? Io. Ma siete carichi? Sì, coach! Io tantissimo. Ragazzi, ci vediamo quando torno dall'isola.